Grazie a tutti, grazie e benvenuti, grazie a tutti per la tua disponibilità per tutto anche per l'associazione Giovanni Paolo II, questa sera ho il piacere di presentare Claudio Saltarelli, un amico di vecchia data, abbiamo degli amici in comune, ci conosciamo da 4-5 anni, forse di più, di meno, lui è un presidente dell'Italia dell'associazione Alta Era di Lavoro, il professor storico, il giornalista Franco Riccardo, Gerardo Riccardo, che già siamo conosciuti nella cittadina, è un bel anno di parte, questo è un evento molto importante perché anche Rocca Romana ha del suo, diciamo, non mi truco troppo, perché poi lascia poi questo video, grazie a tutti e buona così bene.